Inter, scontro tra Barella e Lukaku, paura durante l'allenamento. Milano ha attimi di paura in casa Inter durante la rifinitura alla vigilia della sfida in casa del Porto. Ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà Inerazzurri partire forti dell'1-0 ottenuto nel primo round andato in scena a San Siro. Grande carica per la squadra di Simone Inzaghi a partire da Lukaku e Barella, grandi amici fuori dal campo al di là del battibecco avuto qualche settimana a Marassi durante il match contro la Sampdoria. Fiato sospeso due gladiatori che nei contrasti non tolgono mai la gamba, neppure in allenamento come è accaduto appunto durante un torello che ha visto il centrocampista azzurro entrare in tekel sul centravanti belga e poi restare a terra dolorante a una gamba. Fiato sospeso per qualche secondo tra i compagni e lo staff nerazzurro, che hanno tirato poi un sospiro di sollievo quando Barella si è rialzato e ha ripreso a correre. Virgola.